Sarà stata la sua piccola bella, un piccolo cagnolino meticcio, a salvare la vita a Tim Shadok, un marinaio che voleva raggiungere con la sua piccola imbarcazione la Polinesia francese, ma non si sarebbe mai immaginato che il suo viaggio, iniziato dalle coste del Messico, sarebbe durato oltre due mesi. Il marinaio, 51 anni, è stato infatti sorpreso da una tempesta che ha mandato alla deriva il suo peschereccio. Così l'uomo, che era in compagnia del suo fedele amico, è rimasto in balia delle onde per un tempo infinito, terminato solo pochi giorni fa. I due sono riusciti a sopravvivere, mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana. Fondamentale è stata anche la piccola tettoia che ha installato sulla barca per ripararsi dal sole e proteggersi così dalla disidratazione. Sicuramente l'amore e la dedizione per la sua piccola bella, con quegli occhi dolci e pieni di amore per il suo padrone, gli hanno dato la forza di non arrendersi e di resistere nonostante le condizioni estreme. Davvero il cane è il migliore amico dell'uomo. Alla prossima! Grazie.